Vado sul sito del torneo Adesso facciamosi 250 punti forza Nella madonna Non pensavo di fare le arene così presto Ma se c'è la possibilità di prendersi il deltaplano lo voglio Ma se c'è la possibilità di prendersi il deltaplano lo voglio Non si c'è la possibilità di prendersi il deltaplano lo voglio Non si c'è la possibilità di prendersi il deltaplano lo voglio Ma se c'è la possibilità di prendersi il deltaplano lo voglio Non i создati È costruito Lo voglio andiamo forza che non c'è tempo forza che non c'è tempo figa forza andiamo 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 forza 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 fatti dici 250 sicuro eccolo cazzo 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 ottimo forza 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 andiamo 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 oh io mi auguro che siano 250 raga però ho un po' paura che cioè non vedo perché farmi andare in 200 oh poi magari è così eh raga forza 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 non vedo gente non vedo gente cazzo ora mi faccio uno scar si gioca in tria in trio e sembrerebbe che un momento c'è chi dice 2005 c'è chi dice il 250 150 ok 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 ola bu share ulla ma Io t'ammazzo Ma porca la puttana Mo vengo t'ammazzo Ok Lama 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 No me l'hanno fottuto Cazzo 110 T'ammazzo Ma hai fottuto il lama Grande errore fottermi il lama Sì T'ammazzo 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 Grazie a tutti C'è uno shieldone qua Me lo vado a fare un secondo Forza Andiamo Dentro in otto Morto Forza 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 Il tipo con i poteri Andiamo Sono dentro i cinque Vado a prendere anche l'altro Forza forza Ho eguagliato il record 16 kill Ho eguagliato il record Let's go Ho eguagliato il record